Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cama accesi. Allora, stanotte sarò breve e diretto, ok? Parto con una domanda. Io vorrei sapere chi è il genio del male, ok? Che ha progettato e dopo mette i cartelli con scritto Uscita nei parcheggi sotterranei dei centri commerciali. Perché è una cosa incredibile, una specie di labirinto, cioè... Io non so se sia così in tutta Italia, o se ho io la fortuna di vivere in un posto Dove i parcheggi sotterranei dei centri commerciali sono una specie di escape room. Ma ogni volta c'è una cosa incredibile, cioè... Anche oggi, chiaramente, metto la macchina sotto perché fa caldo, così sta all'ombra E dopo nel momento di uscire ogni volta è un disastro. Cioè perché se seguo le indicazioni uscita, a un certo punto arrivi anche a un punto che Uscita a destra, uscita a sinistra. E dici, ok, ci saranno due uscite, magari è anche vero. Però allora perché se seguo a sinistra, seguo indicazioni uscita, uscita, uscita Mi ritrovo nello stesso punto di partenza. Cioè è una cosa assurda. Penso anche che a un certo punto ti prendano per sfinimento, così dicono A forza di girare ti fermi, ti viene fame, ti viene sete, risali sopra e ti bevi e ti mangi qualcosa. Per non parlare, ok, del parcheggio sotterraneo della nave di Vero, di Marghera. Là veramente è una cosa... Cioè, là siamo a livelli di cittadina sotterranea. Secondo me di notte c'è gente che resta lì e che gira attorno, che si accampa, che non riesce a uscire. Là veramente è un caos a livello puro. Pensate che in questo parcheggio, in una zona che ho trovato perdendomi, ok, c'è perfino una specie di ditta che ti pulisce la macchina. Giù. Sono due persone, gli lasci la macchina e te la puliscono. E anche là ogni volta sono bestemmie per riuscire. Cioè, segui, uscita, uscita, uscita. A un certo punto vedi che dovrebbe essere da a destra, però ti dici uscita di qua. E allora vai. Perché magari pensi che quella sia l'entrata, che cazzo ne so. E ti ritrovi anche là al punto di partenza, con macchine che girano, ripeto, che girano. Secondo me di notte si accampano. E là si formerà nel giro di pochi anni una breve cittadina sotterranea, autosufficiente. Come nelle serie tv apocalittiche che incominceranno a vivere sottoterra. Ecco, la stessa identica cosa. Quindi, ripeto, vorrei sapere chi mette le cartelle, i cartelli uscita, dei centri commerciali. Perché evidentemente sono gli stessi che fanno l'escape room. Stop. E per stanotte è tutto. Buonanotte.